Non si può entrare e realizzare queste cose, e sono pochi elettrici, io penso che ci voglia anche un pizzico, forse anche più di un pizzico di follia, per ripetere il parquito. David Bowie, in Ducabianco, diceva che essere artisti significa essere completamente fuori di Giorgio Amadiari, che si parla di persona, non si parla di artista, si parla di purezza, non di crudale, allora preoccupiamoci, occupiamoci, mettiamoci la faccia, ognuno di noi diventi eroe di se stesso con un volto, stiamo attenti a quello che potrebbe succedere. Bellissimo, meraviglioso, si può fare. Ic et nunc signori, qui et ora, signori siete davanti ad un'opera straordinaria, fatta adesso sull'istante, espressa per voi, il qui et ora, signori guardate, Giorgia, Giorgia, dobbiamo diventare una cosa sola, Giorgia, un uomo di New York, un uomo di San Francisco, Maxi, ma Roma, se quell'altro che perch' iniziano tutti i cuore M, Giorgia, e la M di Matiari? Si, Giorgia, si? Vero, Giorgia, dai, respira, spingi, Giorgia. Sì, 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 sì. È quasi pronta per andare sul mercato. Amazon, Ebay, Paypal. Io sono tutto. Io creo miti. Io decido quale artista sale e quale artista scegale. La perdita del mal fatto artigianale. La pop art è uno zoom sulla riproduzione banale e ossessiva del mercato, generatore del caos urbano che sradica la persona dal contatto con la natura. La pop art è arte di massa, da subito. La pop art contemporanea è popolo se rifiuta il concetto di massa, se muore come gente rinasce come folla. La pop art contemporanea è popolo se ha un grande contenitore di stimoli e condivisione non solo cuore, ma l'intelligenza popolare di chi è abituato ad osservare dal basso il mondo. La pop artista, nella fantasia, 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 Ecco... la pop artista, nella fantasia, La pop artista, alla fantasia, che vuoi che vuoi vinto mare in fondo Un'ora in me È tutto da tua immaginazione, non è minimo, non è maximo, soprattutto non è maximo.